Uomo del parcheggio, misterioso e labile Collezione manga 2023 più mille volumi Salve Bibitine e Bibitini e benven... Chi è Bibitine e Bibitini? Maltality Venuti in questo nuovo video Oggi siamo qui col tanto atteso video collezione nella sua versione del 2023 Non voglio perdermi troppo in chiacchiere Perché so che siete desiderosi di ammirare tutta la mia collezione e la sua bellezza Oggi come non mai potete correre in cucina a prendere dei popcorn e una bibita fresca Per gostarvi al meglio quest'ultimo contenuto del vostro Malta Perché ho... Minchia ma è atonale, è inespressivo, ho tutte le cose che dice Oggi vi andrò a mostrare tutto quello che posseggo in modo molto fiero Ma prima di far ciò come se... Molto fiero? Sigla Questa sfumatura? Non so se sono le sigle meme che mi mettete su Reddit Ora si glozza Eccoci qui sul primo scaffale Anzitutto davanti possiamo ammirare una bellissima Ichika Nakano di Quintessential Quintuplets Non esiste eh Di fianco troviamo dall'1 al 4 di Another serie completa Manga Mystery, Thriller che non mi ha fatto propriamente impazzire Invece di fianco troviamo uno dei miei manga preferiti del momento È figo Sempre Mystery Figo Gunnibal Ascolta però Devi togliere le sfumature per favore I tagli sfumati no, ti scongiuro Quello che volete Gunnibal dall'1 all'8 Non vedo l'ora che Ikari porti tutta la serie completa in Italia Perché è un vero e proprio gioiellino La sto amando alla follia Dietro a questi possiamo trovare dall'1 all'11 di Zombie 100 Manga sugli zombie che io amo alla follia Per il suo essere scansonato e divertente Ma soprattutto folle E di fianco possiamo trovare dall'1 al 23 Ultimo numero uscito in Italia per ora Di 3GX di Show I garbala figa Gisato Fratello del compianto autore di High School of the Dead Compianti Oh no Ci dispiace Tra l'altro piccolo fan fact era anche il suo disegnatore Quindi hanno collaborato i due fratelli per creare quella piccola chicca Che purtroppo non si concluderà mai 3GX molto divertente A me piace assai Soprattutto perché riesce Noi me l'ho scordato A proporre un buon fan service Con tante puppe e situazioni ammiccanti Ad una storia davvero solida Sieni E con buoni personaggi Sotto possiamo trovare tutto My Hero Academia Dall'1 al 35 Ultimo volume uscito in Italia Vabbè la popazza di Dio così per fermare Ecco quello devono fare le pop Di fermacarte Cristo E con tanto di edizione speciale francese E i numeri 31 e 39 Il 31 tra l'altro presenta questa cover assolutamente fantastica Mi piace davvero tanto Davanti possiamo trovare un bellissimo portachiavi di Oshako Uraraka Uno dei miei personaggi preferiti Minorenni Una Funko Pop di All Might E un piccolo portachiavi di Deku Ormai defunto purtroppo Che si sta facendo una bella dormita Non sto a sprecare tante parole sul manga di Kaori Koshi Sapete benissimo Soprattutto se mi seguite da un po' Che lo amo alla follia Ah ma tutta la follia lui È il suo Dragon Ball possiamo dire Ed è uno dei manga shonen più belli In corso di prosecuzione Secondo me Qui sotto troviamo un pezzo della mia infanzia Di fatti c'è Naruto Dall'1 al 72 Con tanto del volume extra Il settimo Kage e il Marzo Rosso E il primo volume dello spin off Di Kenji Taira Quello è il più bello di tutti Di Rock Lee E il libro della Terra Che è banalmente un libro Dove si possono trovare Illustrazioni e qualche curiosità Sopra possiamo trovare Due CB Figures Una di Gaara E uno di Naruto Sopra Gamabunta E dietro ancora Se mette a fuoco Due libri speciali Ovvero i databook di merda Tabook La guida ufficiale al manga E bla 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 Amo tantissimo il manga di Masashi Kishimoto Ci sono cresciuto E rappresenta una tappa importante Per quanto riguarda il mio Oddio ma c'ha l'effetto stabilizzato Quello automatico Percorso da lettore Ma anche come persona E finalmente Grazie a quella santa donna di Marianna Che mi ha regalato i suoi volumi Ho una serie unica Ho eliminato infatti Tutti i volumi della Gold Che caratterizzavano le collezioni precedenti Finalmente Sto godendo ancora Topperi anche il sessanta Come vediamo è stampato bene C'è un morso Di un topo Qui troviamo tutto One Piece Dall'uno all'ottantasei Difatti poi continuerà sotto Con tanto di volume numero uno In giapponese Una piccola taglia di ruffi Che mi era stata donata Al Mugiwara Store In Giappone E la box celebrativa Per il centesimo volume Procedendo sempre più in basso Verso l'abisso Troviamo davanti I volumi della Full Core Bello che ho messo Uno shikishino Per ogni Collezione A partire dalla saga Del grande mago piccolo Mentre dietro Quelli nascosti Sono i volumi che vanno Dall'ottantasette Al cento di One Piece Perché c'è una sorta di poetica No? Cioè il maestro Che poi lascia Effettivamente Eccetera E collegamento Gomi speciali tipo Blue Deep Yellow Green And Red A testimonianza di questa cosa Potete appunto ammirare Sopra i volumi I numeri No c'è una sorta Fino al 103 Con tanto di edizioni speciali Portachiavi E set È l'uno fondamentale Bisogna buttarcelo dentro Mi sa Parte da uno Alle L'ho visto in chat Mi sa Sì? Maltality Sei te? Primo commento in chat Come osi? Ah beh Ciao tesoro Benvenuto Dedicai un video Tantissimo tempo fa Su questo canale Magari ve lo lascio qui Ah c'è un video Sull'uno di One Piece? Ha visto Ben forza Da uno Alle quali dedicai un video Tantissimo tempo fa Su questo canale Magari ve lo lascio qui Nelle schede Nota d'onore Per questa bellissima figure Di Vegeta Le be le be le be le be le be Sotto possiamo notare Tutto Kaiju number 8 O almeno Quello uscito in Italia Per ora Mi mancherebbe Il volume numero 7 Ma tanto si recupera Tranquillo Togli Manga molto carino Che sto apprezzando Nonostante ciò È riuscito comunque In qualche modo Deludermi Poiché la massiccia Campagna pubblicitaria Fatta da Star Comics Vabbè Deve vende La sua uscita Mi fece pompare Le aspettative Come poche altre cose prima Ma si sa È normale Cioè Il manga Che ha cambiato La storia Dell'editoria E poi c'è una Che lo piglia nel culo Cioè È come in altri Millen Time Per esempio Però Sì Le attive non sono state rispettate Ma rimane comunque Un manga molto divertente E carino Ma tutte le case editrici Fanno così Di fianco possiamo trovare Qualche gioco Della PS5 Tra cui Persona 5 Royale Il nuovo Saints Row Wars Legacy Cyberpunk Ratchet & Clank E tanti tanti altri Coperti da uno shikishi Di Dragon Ball Super Unica cosa che mi sono tenuto Di quel bellissimo manga Che sono riuscito a vendere Qualche settimana fa Un po' di ironia qua E poi ultima ma non per importanza Gogeta Una bellissima statua Di Gogeta Del film Di Janemba Diabolico guerriero degli imperi Incredibilmente bello E dettagliato Spostandoci in un'altra No scherzo In libreria possiamo ammirare Solamente degli shonenazzi Quindi niente Azzo di Dio Niente shoujo Nient'altro Solo puri e semplici Shonen Da spocon A battle manga Partiamo da Rocky Joe Uno due tre Stai dicendo molto Però devo andare avanti Sono fermo da un pochino di tempo No recupera Dai invece di legge Haikyuu Che va bene Sessualità E tutto è importante Però non Cioè Rocky Joe Io Buttare dentro Perché sto dando precedenza Ad altre cose Di fianco troviamo un altro spocono Ovvero Haikyuu Dall'1 al 45 Serie completa Molto carino Per quanto abbia tessuto Le sue lodi Non rientra comunque Nella mia Top ten shonen Ma rimane comunque No Haikyuu è simpatico Molto simpatico Però ecco Io darei priorità Al grande classico Rocky Joe Perché ti cambia le vita Haikyuu non ti cambia la vita Ti diverte Intrattiene Fa il suo un po' lunghino Io avrei asciugato quella Però insomma Top periodo Uno spocono molto divertente Da leggere E con tanti personaggi Ben caratterizzati Di fianco Divisi da una parete Troviamo i volumi Che vanno dall'1 al 7 Di Alice in Borderland Mi sono innamorato Di questa serie Guardando il live action A me ha fatto un po' Cagare il manga Dico la verità Cioè mi ha annoiato Terribilmente Ma il manga È posso dirlo Tranquillamente 5 spanne sopra Molto più bello In tutto Secondo me Ma soprattutto Da spazio Tantissimi personaggi diversi Cosa che il live action Non fa Poiché determinati giochi Sono stati giocati Non tanto dai protagonisti Quanto da personaggi secondari Introdotti Ci sta appunto Per farci gustare Un gioco In un determinato capitolo Molto 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 figo Di fianco troviamo Heart Gear Volume numero 1 In edizione Variant Mi è piaciuto un sacco ragazzi Codice Malta? Ma scusa Ci sono già due riferimenti a Zebbone Ma è un fan del Goat? Sa cosa dirvi Il disegno È qualcosa di spettacolare Inoltre Anche la copertina Variant È qualcosa di favoloso Tutto Spy Family Dall'1 al 9 Manga molto divertente Di Tetsuya Endo Che parla di Lloyd Una spia Che deve praticamente Sampatichino Belle fighe Fare il mondo Da un possibile conflitto mondiale E niente Molto divertente Molto carino Agna Best personaggio Insieme a York Comunque Davanti troviamo Una minifigure Di Sukuna Di Jujutsu Kaisen Unica cosa che ho tenuto Di questo manga Che ho venduto Un annetto fa ormai No ma ora Va rivalutato anche quello Ora è diventato capolavoro Perché c'è una scena bella E un bacello Di Terzo Piselli Dove appunto Esce un bel pisellino Dietro i primi manga Che vi ho fatto vedere Di questa nuovissima libreria Possiamo trovare tutto Shaman King Dall'1 al 35 Serie completa E a fianco a lui Tutto Slam Dunk Dall'1 al 90 Il mio Spokun sicuramente preferito E uno dei miei Shonen Preferiti in assoluto Ragazzi mi raccomando Fatevi un favore E leggete Slam Dunk Perché per quanto non abbia Dei personaggi ben caratterizzati Offre comunque Una storia molto divertente E delle partite Che vi sapranno gasare Dal primo all'ultimo minuto Di fianco con i primi due numeri Che poi proseguono Nello scaffale di fianco Troviamo Vabbè Dall'1 al 7 Manga che leggo Esclosivamente per le puppe Comunque Lui gigantesco eh Volume numero 1 standard E volume numero 1 Nella nuovissima variant Il regalo di Loi Che va a ricalcare appunto L'album dei calciatori Non ve la sto a tirar fuori Perché tanto ve l'avranno Fatta vedere Dai si dorme con Blue Lock No non è vero dai Il content creator Quindi io posso benissimo evitare E di fianco Dissing Politica questa roba Una delle migliori opere Riuscite in questo 2023 Secondo me Claymore Mi sta piacendo tantissimo Ha dei buoni personaggi Io c'ho ancora l'edizione vecchia Caruccio A me è divertito Una storia E soprattutto Niente di Però comunque Si fa leggere assolutamente Mi sono piaciuti tantissimo Poiché parlano di un determinato personaggio All'interno di un flashback Tanta 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 roba Ve lo straconsiglio Nei tre scaffali Oh ce l'ho anch'io Eccolo lì eh Mi sa che è il solito Però ora ci sono solamente delle figure Vi faccio una piccola carrellata Possiamo trovare un drago bianco chi blu Della first four figure Incredibile Una saber derivante da fate Mitsuru Fate grande serie Dirigio di Persona 4 Arena Lei una dei protagonisti di Persona 3 Vai vai figa Sempre figa Poi Zoro Troviamo in assetto da combattimento Per lo spin off Appunto picchiaduro Uscito su PS3 e PS4 Negli anni successive La release di Persona 3 e Persona 4 Una grandista di Zoro Della Banpresto E una scattac di Saber Qua altre robe meravigliose Troviamo un Goku e un Vegeta Del film di Dragon Ball Super Braw Intenti a scagliare rispettivamente Una Kamehameha e un Galick Gun E dietro della Figuar Zero Battle qualcosa si chiamano queste figure Troviamo un Goku e un Broly Intenti a scambiarsi dei colpi poderosi E poi Poderosi Ci sta sempre del cinese Fatta un bimbo di tre anni Davanti con l'altarino dedicato a Quintessential Quint Porco ma come si fa Sei l'unico in Italia Vecce l'altarino di Quintessential Quintuplets E Tatsuki Fujimoto Davanti infatti possiamo trovare le altre quattro gemelle Rispetto a Dichica che vi ho fatto vedere prima Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki Vestite da sera Molto molto carine Ma adesso le andiamo a togliere Qui però intanto vi faccio vedere Delle carte di Quintessential Che mi sono state regalate dal buon Faffino Faffino, altro ragazzo che gli l'ha regalato Games Week Allora abbiamo la Discovery Edition francese del primo numero La variante del primo numero esclusiva la Mondadori Che banalmente è una splash page Praticamente riproposta sotto forma di copertina Con tutte e cinque le gemelline in primo piano Guardate che carine Dio, cari Cicca e Nino Vi faccio vedere anche la Discovery francese Che secondo me è molto più carina Proseguendo troviamo tutti i numeri di Quintessential Quintuplet Dall'1 al 14 Con tanto di due volumi speciali Che boia Ma è il più grande fan d'Italia Data book riguardante Miku La mia gemella preferita A me lo fa cagare Mentre questo qui rosa È un piccolo art book Della prima stagione dell'anime Guardate che bella La best gemella Best gemella E io queste robe non ce la faccio ragazzi Ve lo giuro Io Poi mi vedi Gente che vomita Barboni Che prendono fuoco Mentre pisciano addosso Alla gente Che scoppia Mentre crollano palazzi a Tokyo E intatto un mostro Schiaccia Le prostitute Di Shinju Mentre Si cagano addosso A me quelle robe lì mi piacciono Anche invece Carrellata del maestro Tatsuki Fujimoto Abbiamo infatti Chainsaw Man Dall'1 all'11 Manga molto 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 carino Mi è piaciuto davvero tanto Soprattutto negli ultimi numeri E poi abbiamo 1721 e 22 e 26 E Look Back Tutte storie Anche Look Back Che brevi del buon maestro Fujimoto O meglio Questi due numeri Ander Ninja mi piace Sono sì delle storie brevi Mentre questo è un manga blume unico Davvero davvero Molto bello E commovente E secondo me tra l'altro Il Look Back è il migliore di quelli Che ho letto Del maestro Fujimoto Però ora almeno Di fianco troviamo Due volumi di Weekly Shonen Jump Uno del 2017 Questo qui E questo qua Del 2021 Che momenti sono? Il numero del One Piece Magazine Che ho preso in Giappone È una rivista appunto A tema One Piece Dai ci dedico Non l'avrei mai detto Questa è Poi insieme l'abbiamo detto La sua copertina Molto molto bella E di fianco possiamo trovare The Crash Bandicoot Files Bravo Libro rarissimo Cioè rarissimo no Però non ce l'hanno tutti Bravo Bravo Ti benedico Willy the Wombat Sparked Marsupial Mania Ovvero un libro Sull'origine del personaggio Di Crash Bandicoot Con tanto di bozzette Script E sceneggiatura Dei primi tre giochi Stupendi capolavori assoluti E di fianco Troviamo tutto Attack on Titan Con tanto di volume Numero 34 In edizione Variant Il capolavoro di Isayama È un manga Che mi ha sorpreso Tantissimo Complice il fatto Di avere una trama Molto complicata Ma ben strutturata E dei personaggi Iconici Che vi rimarranno in mente Per tanti 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 anni Ora l'anime Si sta per concludere Quindi non dirò niente Del finale Ovviamente non sono il tipo Che fa spoiler Quindi state tranquilli E niente Andiamo avanti Qui ritroviamo Il nostro fantastico amico Se me ci vorranno ancora Degli anni Per capire se L'Attacco Gigante È stato effettivamente Un capolavoro O meno Non lo so Non lo so Io qua sono un po' Ancora indeciso Tatsuki Fujimoto Infatti c'ho il cofanetto Di Fire Punch Completo in otto numeri Mi è piaciuto Soprattutto dai volumi Numero 1 al 6 Poi gli ultimi due Li ho trovati abbastanza Senza senso Sensei Dall'1 al 4 Manga di Masami Kuromada Che disegna da schifo Ma che faccio Perché rappresenta Parte integrante Della mia infanzia Ma distruggiamola Questa infanzia Caro Maltality Che cazzo Ce ne frega Distruggiamo Se una cosa Fa cacare Fa cacare Diciamolo con forza Anche Shoran Junegumi Non è un granché Sono gli ultimi volumi Belli Ma il primo è ripetitivo Le solite gag Già riviste Diciamolo Hanno fatto parte di noi Sono state la nostra infanzia Adolescenza Ma dobbiamo essere onesti Con noi stessi Ma rispettare Il nostro gusto Il nostro Passato E quindi Perché no Perché non fare anche Il manga In modo tale Da poter ripercorrere La sua storia Magari ricordarmi Quelle cose Che ho dimenticato Nel corso degli anni Piccola anche news Per chi se la fosse persa La pubblicazione Di questa final edition È ripresa pure in Giappone Ammazza il pancio Anche noi in Italia Avremo i restanti numeri Dovrebbero essere Circa 20 Barra 21 Di fianco abbiamo Tutto le sparda Esjigo Kuraku Di Yuji Kaku Manga molto carino Che non ha niente di innovativo Ma che comunque Rimane dannatamente divertente Dall'uno al Allora Fatti dare un consiglio Maltality Dannatamente Fottutamente Su tutte cose In doppiaggese Prese dall'americano Tradotte adattate male Insomma E poi doppiate così Dobbiamo perdere Quest'abitudine Secondo me 13 serie completa Uscirà l'anime tra poco Quindi vi consiglio Di recuperarlo Perché è davvero Molto carino E in più Ho anche la spilla Che mi era stata data In omaggio Col volume numero 1 Una circo da una vita Chiamami Di fianco a chiudere Questo scaffale Almeno la parte davanti Perché dietro Ci sono altri fumetti Abbiamo Il numero 1 In inglese Della opai variant Di manga senpai Del manga The king of balls Qualcuno ha detto Puppe? Tra l'altro ha tiratura limitata Poiché ne esistono solamente 100 copie In Italia Ficcato cazzo Dietro E questi sono Gli ultimi numeri Di questa libreria Possiamo trovare Un manua Ovvero Sì ma è presa di culo È un fottuto dio Magante Apposta per quello Quasi Diciamo Tutto The Breaker E The Breaker New Waves Dovrei comparare Gli ultimi numeri Molto carino Ma non è che si trovino Molto facilmente Quindi Proseguiamo Salendo Sempre più in alto Oddio Siamo quasi al soffitto No le katane no Fra Bisogna superare Questa fase Qui abbiamo Le serie concluse Che non mi hanno fatto Propriamente impazzire Ma davanti a loro Sono presenti Delle figure Di varie serie Come per esempio Kancolle Nisekoi Hatsune Miku Persona Dragon Ball E quant'altro Adesso rimuovo Un attimo le figure E poi possiamo parlare Dei nostri fantastici manga Abbiamo in realtà Tutto Belzebu Billsbab Non ho mai capito Come si pronuncia Ogni persona lo dice In modo completamente diverso Presumo Belzebu Perché è il nome appunto Del diavolo O uno comunque Dei nomi di Satana Abbiamo quindi Il volume speciale Delle storie Di Ryuei Tamura Che contiene Sia mini storie Derivanti appunto Da Belzebu Sia cose originali E tutta la serie completa E tutta la serie completa Dall'1 al 28 Con tanto di variant Del primo numero Ve la mostro In tutta la sua bellezza Perché è veramente incredibile È bella davvero Sopra Mai fatto Nessuno Si appoggia al trono Abbiamo Oli Unidi's Kill Manga famoso essenzialmente Per due motivi Il primo è perché è disegnato Da Obata Autore già di Death Note E il secondo perché ci fecero un film Chiamato Edge of Tomorrow Con Tom Cruise Che era stato appunto ispirato Da questo manga Proseguiamo con Una sola entrambi Volumi che vanno Dall'1 al 7 Serie completa Di Gran Blue Fantasy A me non è piaciuto tantissimo Edge of Tomorrow Stanza ben caratterizzati Se cercate una serie Molto breve Ma carina Ve lo vado a consigliare Per quanto riguarda Invece Gran Blue Fantasy Potete fare benissimo meno Non è nulla Di fianco possiamo trovare Ben ricitato C'è Ton Cruy Ton Isekoi Dall'1 al 25 Con il 25esimo E ultimo numero In giapponese E il primo In spagnolo Serie che poteva Concludersi In 5 numeri Ma che l'autore Ha voluto tirare Per le lunghe Per fare più soldi Non ve la consiglio Mazza politica Comunque sto d'accordo Anche perché ripeto È troppo troppo lunga Rispetto a quello Che poteva inizialmente offrire Tanta topina però C'è dentro Ti piace? Spille prese Insieme a mio amico Se l'unico che tiene le spille Non le mette nella nettezza Una volta che gliele regalano Comunque ti rispetto Proseguo solamente 2 su 5 E sono i miei due personaggi Femminili preferiti Di tutto il manga Sempre appunto Di Nisekoi Con Kitouge E Tsugumi Sì Tsugumi Sopra loro possiamo trovare Altri manga Tra cui la variant Preferisco l'anime Per quello non sono andato avanti Col manga Ma troppa tutto e due Tutto l'innobinabile Ma Kuyasama Sorella in 5 numeri Oh ma zì ma ti garba La fica anime di brutto La vuoi tutta colante su di te Dovrebbe uscire il sesto E ultimo volume Ma è sparito dalla circolazione Carino ma nulla di più È palesemente un entai mancato E non lo dico perché lo penso Lo dico perché lo è Dato che l'autore ha fatto anche Dei dojinshi Con i personaggi presenti al suo interno Il primo numero di Kaguya Sama Lo avvis war Mi è piaciuto ma non sono andato avanti Per motivi sia di spazio sia di soldi E Shonen Shonen No no Quello avete ragione Avete ragione Avete ragione Sì sì Lascia a tutti Proseguiamo con quello che è stato Il mio vero e proprio primo romance Insieme a Nisekoi Probabilmente Adesso non ricordo bene Comunque 28 numeri Serie completa Bellissimo per la prima metà Mediocre per la seconda Se volete recuperare comunque Quest'opera di Miki Yoshikawa Ve lo consiglio Perché rimane sempre Abbastanza divertente Maltality Facciamo Per Sugellare La nostra nuova amicizia Facciamoci una bella sega Insieme Te lo propongo Così su un Entai Al volo O su uno di questi qua Borderline Così Per sugellare Il nostro legame Sopra abbiamo Tutto il bellissimo O almeno Tutta la bellissima Parte 1 Di Worts and Harem Oh fuck ya Oh fuck ya Robbins Oh fuck ya Vale neanche per le puppe È proprio Cacca Che caga cacca Scusate il francesismo Altre capolavori Di fianco Memento Mori Di Luca Molinaro Conosciuto come Mangaka 96 E tutto Death Shield Preso per una scommessa Persa sul mio canale Sì sì Certo 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 Poi anche Memento Mori C'hai E Viola Vi lascio il link in descrizione Mi raccomando Venite a seguire anche lì Noin Dall'uno al sei e mezzo Ragazzi non mi è piaciuto Ma comunque non voglio bocciare Tsutomu Takashi Come autore Anzi Vorrei andare a prendere Tutte le sue altre opere Che arriveranno in Italia Nel corso dei prossimi mesi Però ripeto Noin non mi è piaciuto Per niente Ok Mi è piaciuto invece tantissimo Soloist in a Cage Miniserie composta da tre numeri Che parla di questa ragazza Che vive all'interno di questa prigione Con le mura Che un bel giorno riesce a scappare Ma perde il proprio fratellino Da lì farà una missione Vere e propria con altra gente Per poterlo recuperare Eh l'ha buttata di fuori Molto 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 bello Me lo sono sparato tutto d'un fiato E l'ho apprezzato tantissimo Ti rispetto che non è in manga Di morte bianca Proseguiamo ora con il reparto Horror Barra splatter Infatti possiamo trovare Tutto Helsing Composto da cinque numeri Davvero Ce l'hai ancora Fobia Per completezza Stupendo Ve lo straconsiglio Come invece non vi consiglio Kikiri Killer Dall'1 al 5 Serie completa È un manga dove banalmente Orremmo Banalmente mica tanto Perché è un'idea follissima Però dove banalmente Sì però bo stucca Dopo tre pagine Sono presenti dei pugli assassini Che mangiano le persone È una cafonata colossale Di fianco invece abbiamo Quasi tutti i numeri Tranne alle montagne Della follia Dei manga di Gotanabe Che adattano Le ombre Poggi e bue Di HP Lovecraft Abbiamo l'ombra venuta A volte carini A volte Totalmente bypassabili Cioè scusami Ho capito Ma metti Kikiri Killer Lì Esposto E Tommy E lo lascia Sì in bilico In bilico La canna Anzi Non sono Questa Voglia Nei quei libri E resto lì Sul filo Del rasoio A pascolare Cazzi Senza dire Perché lo Faccio E poi Mia non esce Pazza Mi dice Marco Vieni Sbetti Sei un coglione E poi Non senti Che Tremo Mentre Canto Vabbè Comunque Tomi Che non ho mai letto Perché mi cago addosso E Uzu Ma come La spirale Volume 1 Che invece ho letto Qualche giorno fa E mi è piaciuto parecchio Al netto del fatto Che i protagonisti Del manga Non si facessero Domande Su quello Che stesse Succedendo All'interno Della città Perché Non lo so Però mi Ma esponili meglio Dai Esponili meglio Da Fa girare altamente I coglioni Più sotto Possiamo trovare Due No zì Però Allora La figure Demoslayer Uno dove l'hai trovata Due Di Goblin Slayer Due perché l'hai comprata Tre Dio Mio Manga Dark Fantasy Ovvero Goblin Slayer E Gleipnir Il tutto contornato Con Sì Comi Non può comunicare Era meglio Se stava zitta Figure appunto Del protagonista Di Goblin Slayer E il bloc not Però la topa Ovviamente Di Influenza Di scioco Comi Scusate se le riprese Di questa sezione Sono stortissime Ma non avete idea Della fatica Che io stia facendo Per registrare In questo luogo Fidatevi di me Siamo tornati Nuovamente Al soffitto Guardate Così rischio di Ma l'immortale Lassù E Goblin Slayer A parte nella merda Bravo le Paccarmi Lassù del collo Vedi un po' Ma cosa è carino Ma andate a fanculo Anche comi una merda Basta Ma avete rotto il cazzo Carino Carino No Questo è pesissimo Applicato alle serie Interrotte Ma che vorrei riprendere In mano In un prossimo futuro Abbiamo infatti The Walking Dead Raccolta Ovvero il fumetto Dell'omonima serie Televisiva Che secondo me Rimane quattro spanne sopra Intendo che il fumetto È molto meglio Della serie Ah meno male L'immortale di Roaki Samura Dall'1 al 6 Mi piace tantissimo Il problema è che Costa tanto E che talvolta I volumi sono difficili Da reperire E poi abbiamo i volumi 1, 2, 3, 13, 14, 15 E 16 Di Villanzaga Sì ma sì Ma pigliateli tutti Cerca un po' Non ritrovo Ma che non ho voglia Tuttora Come per l'anno scorso Di continuare E poi la discover Ma perché? Le dicono di modiarti dei peti E poi quinto senso Quinto plezza Di merda C'hai Tutta una nicchietta E Villanzaga Li buttano lì Con un cadavere Triot Sotto abbiamo Uno di missionen Preferiti In assoluto Ovvero Medaka Box Nella sua edizione GP Dall'1 al 22 Serie completa Manga che ho rivalutato Tantissimo Negli ultimi due anni Dato che ho avuto Modo di riprenderlo In mano E mi è piaciuto Veramente Veramente Tanto Jojo Phantom Blood Basta lasciateli Tutti scheggiati Sfatti Di Jojo Mi è piaciuto Devo andare avanti Non so quando E poi i primi sette numeri Di Erased Manga carino Mystery Bellino Bellino davvero E tante altre robe Molto particolari In questo scaffale Possiamo trovare Sia l'inizio Dei manga Romantici In proseguire Tutti i manga Questa Lui è un Cairoli Enjoyer Però eh Cioè Li grabano tutti Questi manga Pieni di topa Mamme Con i vestitini Puppe Guarda cosa Sciacca E non che mi sono comunque Piaciuti in qualche modo Ma prima Dietro potete ammirare L'ultimo volume Di Erased Che in teoria Non è l'ultimo Mi mancherebbe Il nono Che è però Una raccolta Di storie brevi E tutto The Promise Neverland Dall'1 al 20 Che sì Mi è piaciuto Per la prima parte Ma non tanto Per la seconda Quindi per me È un 6-6 e mezzo Come serie Complessivamente E poi Tutto Raw Hero Dello stesso autore Di Prison School Manga folle Scanzonato Ma molto 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 divertente Davanti possiamo trovare Tutto Kaorun Uscito per ora in Italia Dall'1 al 7 Un romance davvero Molto particolare Ma soprattutto Figo My dress up darling Con tanto di 8 In edizione regular E standard E poi un romance davvero davvero bellissimo Tutto Videogirl High Nell'edizione greatest Di parecchi anni fa E Videogirl Ma che ricordi Quest'edizione qui Len Gente fatevi un favore E recuperate questa piccola perra È figliissima Grande katsù Che davvero incredibile Sotto più punti di vista Sotto troviamo Tutto Comic and Communicate Col primo numero In edizione speciale Della Games Academy E un pack Compreso di 4 variant giapponesi Puttata di fuori E tutta la serie Fino al numero 21 La sto recuperando pian piano E mi sta piacendo Veramente tantissimo Come un personaggio davvero Molto tenero E il manga riesce a trattare Di tematiche complicate In maniera efficiente Ma soprattutto In modo molto leggero E divertente Mei boh Ho letto i primi due Carino Ma non fa per me Direi Adesso vado a togliere Questa serie E vi faccio vedere Quello che c'è dietro Iniziamo col cofanetto Di Your Name Manga incredibile Fantastico capolavoro E chi dice il contrario Ha ragione Il cofanetto Mi sono spaventato tanto Stavolta Di Bunny Girl Senpai E Petit Devil Kohai Che sono banalmente Le prime due serie Di Bunny Girl Senpai Ho fatto il memino Ma come Mi ha ingannato Senpai appunto Della light novel Di Bunny Girl Senpai I married a girl To shut my parents up Manga carino Che tratta il tema Dell'omosessualità Anche se molte persone Io sono gay Mi hanno fatto notare Lo faccio in maniera Abbastanza incoerente Ma soprattutto Forzata In alcuni casi Il cofanetto Di A Silent Voice Manga molto carino Anche se devo dire Preferire il film Tutto o almeno Tutto quello Cito in Italia Del duro lavoro Di Musubu Dall'uno al quattro Molto carino La romanza va Tra i due personaggi In una maniera Abbastanza spedita E questa è la cosa Che apprezzo di più Inoltre entrambi i protagonisti Sono ben caratterizzati E hanno una buona chimica Tra di loro I primi due numeri Della vendetta Di Masamune Questo l'ho preso Solamente perché anni fa Vidi l'anime Ne rimasi estasiato Poi l'ho riletto Anni e anni dopo Grazie a questa edizione Portata in Italia Da Goen E non lo so Non mi convince al 100% Di fianco Tanto anche se lo vuoi Continuare Goen Mi sa che Troverai più niente Abbiamo Corpi Solitari Ho preso il primo numero Mi è piaciucchiato Diciamo Anche se non mi ha fatto impazzire Non so onestamente Se andrò avanti Più che altro perché Goen Ciao ciao Saluta a tutti Questi mi stanno Entrambi sulle palle Sotto abbiamo E parto questa volta Dal dietro Per dare una parvenza Logica al tutto Il Prezzo di una vita Serie che molti hanno odiato Io personalmente L'ho adorata Mi piace tantissimo Dentro Mari Di Shuzo Shimi Vabbè Shimi Figghissimo Uno dei miei manga preferiti In assoluto Ve lo straconsiglio I Fiori del Male Sempre di Shimi Che mi è piaciuto Meno Praticamente Di Dentro Mari Ma comunque molto Il motivo per il quale Mi è piaciuto meno E per il semplice motivo Che molti personaggi Presenti al suo interno Mi stessero sulle palle Soprattutto Vabbè però ti devono Stare un po' sulle palle I due protagonisti Nella prima parte del manga Con tanto di appunto Variante uscita In corrispondenza Dell'uscita in Italia Del pack Con Bentornato Alice Eccola qui In tutta la sua bellezza La cosa che più mi fa ridere Di tutto ciò È il fatto che il volume 1 Standard Variante GG Planet Come ho detto prima Il primo numero GG WP Ben tornato Alice E i primi 3 Di Drifting Net Caffè Sempre di Shuzo Shimi Mi piace Aspetto l'ultimo Bravo che ha collezionato Tutto Shimi praticamente Numero con trepidazione Ma è forse la serie Più debole Oggi è arrivato il nuovo volume Il primo volume Della nuova serie Di Keigo Shinzo Stasera me lo sparo Appena arrivo a casa Non vedo l'ora cazzo Il livello di sceneggiatura Che l'autore abbia scritto Soprattutto perché Da una certa in poi Punta tanto sul sesso E so che è una cosa Caratteristica Di quest'autore Ma qui lo fa in maniera Molto più fisica E meno metaforica Diciamo rispetto al solito Ci fermiamo qui Però grazie Perché comunque Ti fai cazzi tua Ti garba la fica E perché no Ci compro i manga Viva la fica Diciamo rispetto al solito